Il Presidente e il Vicepresidente della Proloco che insieme al Comune questa sera hanno inaugurato la via del pescatore. Siamo qua questa sera ad inaugurare la via del pescatore, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Dalla Proloco e dalle associazioni del territorio, in particolar modo dall'officina fotografica. Abbiamo voluto dare luce a un vicolo del centro, in particolare a Degrado ultimamente. Abbiamo voluto rendere omaggio alla cultura marinaresca di Briatico. Abbiamo raffigurato un po' quelli che sono i mestieri marinareschi, oltre a dare un senso a quella che è la devozione religiosa dei pescatori nei confronti della Madonna del Carmine. Questo è rientrato a uno dei nostri obiettivi, che è quello di promuovere il paese, di promuovere le nostre culture e la bellezza del nostro paese. Cosa dire? È un'iniziativa molto sentita, molto voluta. Abbiamo fatto le nottate, ma la soddisfazione più grande è proprio vedere l'afflusso di gente che c'è stata stasera, che ci dà veramente soddisfazione per tutto il tempo che ci abbiamo dedicato. Grazie a tutti.